Il mio nome è Chun. Vengo da un mondo sotto l'oceano. Ogni ragazzo, quando compie 16 anni, viene inviato nel mondo degli uomini in un rito di passaggio. C'è qualcosa di diverso in lui. È incastrato nella rete! Aspetta, sta calmo! Ora ti libero! Lui mi ha salvato la vita. Non potremmo mai annullare i torti che abbiamo commesso. È necessario un pezzo della tua anima per svegliarlo. Adesso capisco quanto ti importa di lui. I cieli sono arrabbiati con noi. Solo distruggendo quella creatura sistemeremo le cose. Non gli farete del male! Il percorso che hai scelto non è facile. Ma se sei consapevole di questo, segui il tuo cuore. Ti farò tornare a casa, promesso. Percorso che hai scelto. Tuttech, ti farò tornare a casa, promesso. Io? Autore dei contenci uni... Che c'è nasce produced... ...